La Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana il dispositivo dei controlli, volte a verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid. In totale, tra venerdì e domenica scorsi, sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 862 persone e 141 attività commerciali, 34 le sanzioni complessive. In particolare, nel capoluogo, il secondo nucleo operativo metropolitano ha denunciato due cittadini di origine nigeriana sequestrando nel quartiere Mercato 5.000 capi di abbigliamento contraffatti di note griff, oltre a macchine da cucire, banchi da lavoro, stampanti e presse a caldo. Sempre a Napoli, la compagnia di Torre Annunziata ha coaduvato il commissariato dei cumani, fornendo la necessaria cornice di sicurezza nello svolgimento dei controlli tese ad evitare il formarsi di assembramenti. Al termine sono stati sanzionati tre soggetti, in strada, oltre all'orario consentito, e due bar mentre vendevano bevande pronte per l'immediato consumo all'esterno del locale. Il gruppo pronto impiego, tra i quartieri Vomero, Mergellina e Mercato, ha sanzionato diversi cittadini sprovvisti di mascherina o sorpresi in un comune diverso da quello di residenza, senza comprovate esigenze. Così come la stazione navale di Napoli, che, nelle acque antistanti l'isola Capri, ha sanzionato un cittadino sorpreso in un comune diverso da quello di residenza, senza valide motivazioni. Nell'area metropolitana, la compagnia di Ottaviano ha sequestrato presso un ingrosso di abbigliamento di San Giuseppe Vesuviano oltre 160.000 tra maschere facciali con marchi contraffatti di note griff e prive dei requisiti minimi di sicurezza. La compagnia di Castellammare di Stabbia, a seguito di una segnalazione, ha constatato un assembramento di avventori all'interno di un internet point, intimando nella chiusura provvisoria per cinque giorni. La tenenza di Massa Lubrense ha sanzionato due giovani sorpresi in strada, oltre l'orario consentito. Uno di loro è stato trovato anche in possesso di marijuana. Inoltre, tra i controlli anti-Covid sono emesse anche altre situazioni illecite di tipo economico-finanziario, come nel caso della compagnia di Casanuovo di Napoli, che nel quartiere Barra ha sequestrato quasi 40.000 litri di olio e gasolo di contrabbando, tre automezzi, un'elettropompa e due semplodori. Denunciati tre responsabili. Infine, il secondo gruppo ha individuato in un piazzale dell'area portuale utilizzato per la sosta e movimentazione di mezzi pesanti, 20 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non denunciando il rappresentante legale di una società di Catania, per gestione di rifiuti non autorizzata.